Nel video di oggi vi porteremo dietro le quinte per svelarvi tutti i dettagli della sorprendente rottura tra Alfonso e Federica, una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island. Scopriremo insieme cos'è accaduto tra loro subito dopo il programma e qual è oggi il rapporto che li lega. Ma prima, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nostri aggiornamenti esclusivi. Dopo la conclusione del programma, la storia tra Alfonso e Federica sembra giunta a un punto di non ritorno. Alfonso ha ammesso i propri errori, cercando di riavvicinarsi a Federica, ma lei sembra ormai decisa a chiudere definitivamente. Federica, infatti, ha trovato un nuovo interesse in Stefano, uno dei tentatori che, con il suo carattere attento e premuroso, ha conquistato il suo cuore. Durante il falò di confronto, Alfonso ha confessato apertamente le sue mancanze, dimostrando la volontà di ricostruire il rapporto, ma Federica, ormai priva di fiducia, sembra irremovibile. Le voci diffuse da Dejanira Marzano hanno infiammato l'interesse del pubblico, confermando che la crisi tra Alfonso e Federica non era affatto temporanea, ma il sintomo di un problema ben più profondo. Mentre Alfonso si interroga sugli errori commessi, Federica si gode un nuovo equilibrio accanto a Stefano, allontanando sempre più l'idea di un ritorno al passato. La loro frequentazione prosegue anche fuori dal programma, lasciando pochi dubbi sulla fine definitiva della storia con Alfonso. Questa rottura è un esempio di come Temptation Island possa mettere a dura prova la solidità delle relazioni, portando a risvolti inaspettati. Da una parte, Alfonso che riconosce le sue colpe, dall'altra, Federica che ha ritrovato la serenità con Stefano. Entrambi, ora, sono pronti a percorrere strade diverse. E voi, cosa ne pensate della rottura tra Alfonso e Federica? E della sua nuova storia con Stefano? Fatecelo sapere nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle news più scottanti.